Ci è piaciuto? Ci è piaciuto ragazzi? Allora, lo slam è stata una bomba Ha vinto dei poeti che sono stati fortissimi Perché non gareggiavamo io e Dome Se no, non avremmo vinto comunque Perché per essere i poeti, vincere i poetri slam Bisogna saper scrivere, io e Dome siamo dei cialtroni Basta, basta! Allora, un saluto grandioso ai ragazzi del CPM Sono stati straordinari, stratosferici Il poetri slam ha creato un boato di velocità e di energia E non erano le luci a scaldare l'atmosfera Ma erano proprio i ragazzi con il loro calore Un pubblico acceso, bollente E poi, un MC della Madonna Tutto è accaduto grazie alla Lega Italiana Poetry Slam www.lipslam.it E per partecipare alle gare di poesia della Lips Lega Italiana Poetry Slam C'è una pagina Facebook Seguiteci sulla pagina Facebook Lips Lega Italiana Poetry Slam Trovate tutte le informazioni dello slam A livello nazionale Perché il Poetry Slam si estende su Tutto lo stivale italiano Tutto, tutto, tutto Siamo dei cialtroni E vi salutiamo come dei cialtroni Come? Come? Come vi salutiamo Toccami i tet Dome Bulfaro Eeeh, scatti doc Passoni